Autodromo dell'Umbria, Magione, terzo appuntamento per quanto riguarda i trofei moto estate, siamo al giro di Boa, come potete vedere il tempo è caldo ma ci sono delle nuvole sospette, già ieri si è abbattuto un ubifragio in quella di Magione e questo appuntamento è veramente importante perché diverse categorie hanno da dare molto e si giocheranno parecchio, molti piloti molto ravvicinati in tante competizioni, la 300 Supersport, la Race Attack 600 e poi ci sono diverse novità, diverse sorprese perché ritroviamo la Octocup con i ragazzi che scenderanno e disputeranno sicuramente un'importante competizione, c'è Luca Salvadori che chiaramente è il personaggio per eccellenza che battaglierà all'interno della propria categoria e la possibilità domani davvero di poter dare una svolta per quanto riguarda qualche competizione, qualcuna si è già avviata Ogredi ad esempio verso la vittoria con diversi punti di vantaggio ma ci si gioca la seconda posizione Scaltritti Proietti, in altre invece è veramente bagarre totale, ci sono cinque punti ad esempio tra Benedetto e Campanini, in mezzo c'è anche Vignati in 300, ci sono tantissimi piloti che si contenderanno la vittoria finale e questa può rappresentare davvero la tappa intermedia, anche perché poi si tornerà a Varano a inizio agosto per poi chiudere in bellezza al Cremona Circuit.